Unione di intenti con le istituzioni per continuare il percorso di ricostruzione dei luoghi di culto ma soprattutto del tessuto sociale dell'Aquila. Il ruolo del giornalista come sentinella del popolo, colui che legge gli eventi e li racconta senza ridurli, a mera cronaca, colui che denuncia quello che non va ma che incoraggia allo stesso tempo la gente ad andare avanti e a non abbattersi davanti alle difficoltà di tutti i giorni. Sono questi gli spunti forniti dall'Arcivescovo dell'Aquila, Monsignor Giuseppe Petrocchi, nel giorno della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Ad intervenire al fianco del Vescovo Aquilano anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta, che ha parlato della funzione del giornalista con l'avvento dei social network e delle conseguenti insidie di disinformazione. È un appuntamento per tutti quanti noi, proprio per quello che diceva lei, quello di riflettere sul nostro mondo, sull'informazione, anche alla luce delle nuove tecnologie, dei social che stanno trasformando profondamente la nostra professione. È un momento anche di confronto con questo importante settore che è l'informazione, la stampa cattolica, che è una parte molto consistente e rilevante dell'informazione in generale nel nostro paese. L'informazione cattolica ha delle associazioni importanti, ha l'unione stampa cattolica, con cui noi ci confrontiamo in continuazione, non solo dal punto di vista dell'approdo della nostra professione, che pure è un tema importante, ma anche dal punto di vista contrattuale, della contrattualistica rispetto alle problematiche della precarizzazione della nostra professione e quant'altro. Per cui credo che sia anche quest'anno un incontro importante per tutti quanti noi, per riflettere su dove sta andando la nostra professione.